Ciao amiche e ciao amici, 21 giorni per essere amata o amato. Che cos'è questa cosa? Allora, 21 giorni è un tempo che serve per mettere dentro di noi una nuova credenza. Poi, ovviamente, la credenza potrebbe avvenire istantaneamente se sei collegato a una forte emozione. Però un tempo, diciamo, ragionevole, sufficiente, che possa andar bene per tutti, tenendo conto di situazioni anche in cui magari ci sono persone che hanno bisogno di più tempo, 21 giorni è un tempo sufficiente. La nuova credenza che vogliamo inserire con questa meditazione è la credenza di meritare di essere amati acquisendo la capacità di essere amati. Per cui, se vuoi essere amata o amato, mettiti in una posizione comoda, con la schiena eretta ma non tesa, le spalle rilassate, le braccia rilassate e chiudi dolcemente gli occhi. E mentre ascolti il suono della mia voce e respiri, lascia che l'aria possa entrare nei tuoi polmoni. E via via che l'aria entra nei tuoi polmoni, ti senti sempre più rilassata, rilassato. Il tuo corpo diventa pesante, sempre più pesante. Puoi sentire le tue braccia pesanti, le tue gambe pesanti, tutto il tuo corpo pesante. E via via che senti il peso del tuo corpo, il rilassamento aumenta. Il respiro diventa calmo e regolare. Come calmo e regolare è il respiro del mare. Come calmo e regolare è il respiro dell'universo. E via via che tutto questo succede e continuo ad ascoltare il suono della mia voce a respirare. Non so se ti stai rendendo conto che qualcosa dentro di te sta cambiando. Entri in uno stato di benessere, uno stato di rilassamento sempre più profondo. E via via che continui ad ascoltarmi e a rilassarti. Immagina che ad ogni ispirazione un raggio blu penetri al centro del tuo petto, nel tuo cuore. Questo raggio puoi immaginare che provenga dall'universo e trasporti dentro di sé l'energia dell'amore. Lascia che l'energia dell'amore si diffonda possente e benefica nel tuo cuore. Rendendo blu completamente tutto il tuo corpo. Un corpo di energia blu. Lascia che questa energia poi fuoriesca nuovamente dal tuo cuore e vada verso tutto l'universo. portando amore a tutti gli esseri dell'universo, a tutti gli esseri che hanno bisogno, a tutti gli esseri della terra, a tutti gli esseri senzienti. L'energia del tuo cuore porta amore a tutte le persone che hanno bisogno di amore. Porta sostegno a tutte le persone che hanno bisogno di sostegno. Lascia che questo avvenga. Tutti gli esseri dell'universo stanno ricevendo da te amore. Nessuno escluso. Puoi immaginare questi raggi di luce e di energia blu che si diffondono dal tuo cuore in tutte le direzioni. Nello spazio e nel tempo. E arrivano al cuore di ogni essere senziente. E ogni essere elabora l'energia dell'amore e la rimanda indietro. La rimanda indietro al tuo cuore. E avviene così uno scambio di energia sotto forma di un raggio di luce blu. Energia dell'amore che collega te a tutti gli esseri dell'universo. In un legame d'amore indissolubile. E tutto questo ti prepara a vivere fortemente l'amore. Essere in sintonia con l'amore. Attrarre e dare amore a tutto l'universo. E quando hai fatto tutto questo. Fai tre respiri profondi. Trattieni l'aria alcuni istanti. E poi espirala fuori, fino in fondo, con la bocca. E al termine di questi tre respiri profondi. Inizia a muovere le braccia, le mani, le gambe. E per finire apri dolcemente gli occhi. Bene, questa meditazione va ripetuta per 21 giorni. E ti consentirà di prepararti a ricevere l'amore. Ad essere amato, ad essere amato. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao! Ciao! Ciao!